Ciao bambini, avete voglia di ascoltare qualche bella filastrocca a scaccia paura? Adesso ve ne leggerò qualcuna da questo bellissimo libro che si intitola Filastrocca e scaccia paura di Maria Loretta Giraldo. Nella notte scura scura non bisogna aver paura. Vi fan paura fantasmi e streghe, orchi e stivali di sette leghe, vi terrorizza il solo pensiero che sotto il letto ci sia l'uomo nero. Tremate pure, prima però venite qui, sentite un po'. Anche fantasmi, draghi, folletti, antremarelle, ansie, difetti, anche le streghe fan brutta figura, perciò a che serve avere paura?